Sole, mare, tanto sport. Alba Adriatica farà ancora da cornice per ospitare il King & Queen Beach Volley Tour Serie A. Una storia d'amore, quella tra la cittadina adriatica e il beach volley, che dura ormai da 25 anni. In una manifestazione che esiste da 25 anni, novità, diciamo, è la tradizione che si conferma, che si arricchisce, si arricchisce, della presenza di personaggi molto importanti. Parliamo di atleti della Serie A maschile e femminile, Serie A 1, quindi Superlega e Serie A 1 femminile. Quindi lo spettacolo sarà dato da questi atleti e dal pubblico che con entusiasmo, perché già stiamo vedendo un entusiasmo incredibile, sarà sulle tribune per ammirare e ammirare, appraudire e divertirsi. Intrattenimento e turismo con tanti atleti nazionali e internazionali, ospiti di questa 25esima edizione. Un bellissimo spot per la nostra regione. Il nome che spicca più di tutto è quello di Ivan Zaitsev. Nel femminile anche non mancano le grandi protagoniste come Raffaella Folì e Ofelia Malinov, che sicuramente sono di un livello internazionale. Una disciplina, quella del beach volley, che da anni è sinonimo d'estate e appassiona sempre più persone, soprattutto i giovani. Noi come regione abbiamo avviato un progetto che ovviamente parte dall'alto, dalla Federazione Nazionale, dalla FIBAD nazionale. A livello territoriale stiamo raccogliendo dei giovani, anche come forma di propaganda. Sono tutti ragazzi nati tra i 2008 e i 2009. I partecipanti di quest'anno verranno premiati poi con un allenamento davvero speciale. Nel mercoledì 19, nel pomeriggio dalle 15 alle 18, si terrà un allenamento speciale, chiamiamolo così, perché a tenere l'allenamento sarà proprio l'allenatore della Nazionale Italiana, Nicolae Cottafava, che è Simone Di Tommaso, che oltre ad essere un amico è anche una persona di assoluta intelligenza sportiva e competenza. Appuntamento allo stabilimento balneare Alfaro dal 20 al 22 giugno, con le finali maschili e femminili che si giocheranno il sabato per incoronare i nuovi King and Queen di Alba Adriatica.